Arte e tradizioni pasquali alla Villa Liberty. Abbiamo la possibilità oggi di ammirare i quadri fatti all'Accademia del Professore Patti, abbiamo la possibilità di ammirare le torte fatte dai giovani dell'Associazione Berda Favara, abbiamo la possibilità pure di credere e progettare un futuro migliore per i giovani di Favara e per festeggiare insieme una Pasqua all'insegna della felicità e della pace. Per l'occasione è stata allestita una mostra di pittura. Sì, insieme all'Associazione Berda Favara abbiamo avuto questa possibilità di fare questa manifestazione e diciamo che realmente dovremmo fare più spesso queste cose perché è una cosa positiva sia per noi che anche per la città di Favara.